Allora, Quaratino con un parziale di Mambda, poi li raggiungeranno tutti, allora, migliore in campo questa bellissima partita 3 a 2 contro il battaglione, mamma mia che fattiglia! Allora, Mambda, ritornati al successo, cosa? Dopo 23 anni, un bravo successo! Oh, per me lo spingere! La macchina sta molto freddiana, non è vincere, ma giocare, perché... Mambda, ci restruttano, ma vincere! Ringraziamo a Dio! Dove mi chico finito? Eh, ragazzi, questo è un prestito! No, è un acquisto di riparazione per i Mammat, perché la cessione di Marco Giovane è atletico! Marco è un po' lo scandalo, quindi è il nuovo acquisto, siamo contenti! Siete contenti di questo acquisto? Come ha giocato? Come è andata la prima? No, ha fatto un assist a me, oggi ha fatto 3 gol, quindi salgo nella classifica cannonieri! Maratino però è il migliore, allora, risacconti un po' la gara, com'è andata? A me importa solo dire che c'è stato il risultato, perché anche se manca poco, siamo felici, siamo contenti di come stiamo facendo! Spero di continuare così con queste ultime due partite! Va bene, grazie ragazzi!